Amici di Foccafè, ciao a tutti, l'Expo si muove, crea relazioni internazionali, viaggia per il mondo, aumenta il numero dei paesi che sono iscritti, di quelli che chiedono notizie, io stesso sono in partenza per Washington dove parteciperò per due giorni al simposio organizzato dal governo degli Stati Uniti, simposio che sarà aperto dallo stesso Obama come apertura delle manifestazioni legate al G8 che si tiene nel fine settimana. Questo simposio è dedicato ai temi della sicurezza alimentare, i capi di Stato e di governo che saranno presenti insieme a numerosi ministri parleranno degli impegni assunti all'Aquila nel precedente G8, di come sta funzionando la guerra alla fame nel mondo, di come i temi della sicurezza alimentare, tutti i temi connessi all'alimentazione, all'energia stanno procedendo nelle agende internazionali. È un'occasione in cui potrò confrontarmi con i protagonisti mondiali, presentare il nostro expo, acquisire consensi, osservazioni sul grande documento strategico che sto preparando perché voglio creare una piattaforma da tutti condivisa, un documento di una trentina di cartelle che girerà sulla rete, che acquisirà i pareri della gente, che acquisirà i pareri delle organizzazioni internazionali, sulla base della quale faremo di Expo non soltanto una grande fiera, come è sempre stata in passato, ma anche un momento di approfondimento scientifico, culturale, di posizioni e di impostazioni. Una trasferta lampo, 48 ore andate e ritorno da Washington, ma un'occasione imperdibile di affrontare con tutti i paesi del mondo, con le grandi organizzazioni sotto gli auspici di Obama e della Clinton, queste grandi tematiche. Nel frattempo non dimentico di offrire a tutti un ottimo fo' caffè. Alla prossima puntata, arrivederci.